Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Mariana, parto da te. La cosa migliore che ha fatto Giorgia Meloni in questo anno di governo? Questa è cattiva però. La cosa migliore che ha fatto Giorgia Meloni è tradire qualcuna delle aspettative negative che si avevano sul suo governo. Personalmente immaginavo che per esempio in tema di diritti sarebbe stata molto più veloce e più rapida l'azione. Invece purtroppo c'è stata, c'è, ma è più circospetta, è più prudente. Quindi si va dai proclami della ministra Roccella sui vari aspetti dalla culla alla tomba che vanno normati. Si va dall'attacco frontale alle famiglie Alcobaleno con la revoca delle trascrizioni dei figli nei confronti di vita non biologici. Ma mi sembra che il tuo ragionamento sia poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Io l'ho preparata peggio. No, dal tuo punto di vista poteva andare peggio. Sì, sì. E Borgonovo, intanto lo saluto, Francesco Borgonovo, la verità, chiedo anche a te la cosa migliore.